Le istanze di un territorio e le istanze di una città che fino a qualche anno fa poteva essere il centro dello studio universitario e adesso vede svanire un sogno, ancora di più rispetto a prima, a causa del mancato arrivo dei contributi da parte della provincia. Se in un primo momento, dopo l'intervento del sindaco, che ha puntato sull'unità, sulla forza del gruppo, su quanto sia importante l'università per lo sviluppo economico, con la riunione che si è svolta in aula consigliare, tra l'altro stracolma di istituzioni, parti sociali e politica, ha preso una via diversa. A fare da spartiacqua il consigliere comunale Salvatore Licata, che è entrato a gamba tesa, infurcando anche un singolar tensione con il presidente della regione, una ridda di interventi, tra i quali anche quello del consigliere Oscar Aiello, che hanno infuocato l'atmosfera, sono stati appunto i consiglieri di opposizione a fare la differenza, calcando a tratti un po' la mano nei confronti delle istituzioni presenti, ospiti dell'amministrazione e della città tutta. Il presidente della regione, nel suo intervento, ha affermato che sono 4.000 i milioni di euro pronti per l'ex provincia valorizzare medicine di ingegneria e l'impegno preso da Crocetta. Costruire un importante impegno contrattuale forte con la core, questo ha detto Angelo Romaglio, direttore del CEFPAS. È stata anche l'occasione per poter parlare di altro, la legge sulle province, e la rivitalizzazione del centro storico attraverso l'università. Aprire agli Atenei nazionali, una delle proposte arrivate dal segretario NCD Giuseppe Rapp. Si è entrato nel vivo degli argomenti in corso d'opera, superato il primo momento di attrito, che certo non poche scintille ha fatto, con un visibile imbarazzo del sindaco Giovanni Ruvolo, che ha preso le distanze da taluni interventi. La metodologia ha comunque prevalso anche sugli scontri, prevedibili rispetto alla tipologia di incontro. La prospettiva di futuro dovrebbe essere la pianificazione comune. Il consorzio gode di ottima salute, ha detto Emilio Gianmusso, presidente del consorzio stesso. Sono stati operati numerosi tagli ed attraverso una politica parsimoniosa, l'avanzo di amministrazione è stato di un milione di euro. Puntare sulla partnership con il CEFPAS per rilanciare il consorzio, questo il messaggio del presidente Gianmusso.